Secondo, forse secondo, vado un po' a memoria, avevo messo il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, tra l'altro per fare questo lavoro non ho scelto i manuali più aggiornati che ho, ma quelli su cui ho studiato io per la maturità, spero in questo di esservi ancora più vicina. Allora, canto notturno di un pastore errante dell'Asia, perché l'ho scelta? Perché è una poesia abbastanza lunga, per cui ho detto magari vi sollevo un po'. La passiamo molto rapidamente, anche perché è molto bella, insomma a me Leopardi piace molto e se volete saperlo in triennale ho fatto la tesi proprio su una canzone leopardiana, in realtà era all'Italia. Allora, canto notturno di un pastore errante dell'Asia, vi do il tempo di rintracciarlo tra i vostri testi, se avete però visto il mio programma magari l'avevate già preparato, matita alla mano, cerchiamo di nucleare i temi fondamentali. Allora, intanto siamo tra il 1829 e il 1830, in effetti non sono andata in ordine cronologico nel fare la mia scaletta, sono andata su gestioni. E poi, e poi, spero che siate curiosi perché io vi ho inserito una dicitura particolare, cioè vi ho scritto le interrogative a grappolo, perché è una terminologia che mi piace, poi a me la stilistica, figure e retoriche piacciono molto. Partiamo da qui. Allora, l'interrogativa a grappolo è quando, ad esempio in questa poesia, troviamo tutta una serie di domande che il poeta si pone, oppone a qualcun altro, ma sono domande serrate, che aumentano il ritmo della poesia, che lo rendono quasi concitato. E quindi, in questo caso, vedete già l'inizio, leggiamo proprio parte della prima strofa. E potremmo andare avanti, perché in realtà, a parte la seconda strofa e la terza, poi se andate avanti, le strofe in tutto qui sono sette, per esempio nella quinta. Anche la quinta è piena e sono di grandissima intensità. A te tante facelle, che fa l'aria infinita e quel profondo infinito seren. Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io che sono? Quindi un crescendo di intensità che arriva fino all'ultima strofa. Vi propongo di fare questo sul canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Proviamo insieme a spiegare che cosa succede in ogni strofa. Sapete che quelle delle canzoni in realtà si chiamano stanze. Ricordatevelo? E qui sono sette. Allora, abbiamo la prima stanza che mi sono scritta, scusatemi, il numero a fianco a ciascuna e qualcosina di ciò che succede. Allora, nella prima stanza che fai tu luna in ciel, dimmi che fai, eccetera, abbiamo questo pastore che si rivolge alla luna iniziando a farle tutta una serie di domande delle quali lui non sa la risposta, ma suppone che lei, essendo in alto, eterna, intangibile, ma sempre presente perché segue sempre le sue peregrinazioni, ecco dicevo che lei lo sappia. E quindi il pastore fa alla luna una serie di domande e poi paragona la sua esistenza a quella della luna. Nella seconda stanza, invece, c'è una sorta di percorso allegorico che fa riferimento a quella che è la vita umana. Attraverso la figura, lo vedete, è la prima parola della seconda stanza, vecchiere il bianco infermo. Quindi, della seconda stanza dovete ricordarvi l'allegoria della vita umana. E quindi una vita che viene presentata come una vita di grande fatica e di grandi sofferenze e poi si arriva alla fine e tutto termina. Vedete, infatti, il verso finale di questa stanza è tale, è la vita mortale. Terza stanza abbiamo l'esplicitazione di un concetto chiave nel Leopardi a quest'altezza e cioè che la vita, una sorta di paradigma universale per lui, vita uguale sofferenza, vita uguale dolore. Lo sappiamo, d'altra parte, che il pensiero di Leopardi attraverso tutta una serie di step perviene ad un pessimismo assoluto che viene definito appunto pessimismo cosmico. E qui i concetti della terza strofa, della terza stanza, che vi dovete ricordare, sono proprio quelli legati poi all'incoerenza della vita umana. Ma perché se la vita è dolore, sofferenza, comunque l'uomo persevera? E poi la quarta, vado un po' veloce perché vorrei soffermarmi su altre cose, ho pochi minuti, la quarta stanza, quella in cui si esplicita invece il concetto della consapevolezza della luna. La luna sa rispondere alle domande del poeta, ma il grado se ne stia silenziosa, una compagna silenziosa che se ne sta in cima e quindi contribuisce a dare un'idea di natura molto diversa da quella, faccio un esempio, del Petrarca. La natura in Petrarca partecipava alla sofferenza del poeta. Il poeta era l'unico ad essere sofferente, a stare male, mentre tutti gli altri, la natura, gli animali e gli altri uomini invece nella sua ottica erano felici. Ecco qua no, con Leopardi abbiamo, come dire, un paradigma che vale per tutti. La vita è sofferenza per tutti. Nella quinta stanza si prosegue con una serie di domande, ricordatevi così potrete sfoggiare questa terminologia interessante, queste interrogative a grappolo alla luna, la luna che sarebbe in grado, in potenza, di dare delle risposte al pastore, però sta in silenzio, non le dà. E io vi consiglierei di appuntarvi, tra il verso 86, se vogliamo, e i versi limitrofi, il concetto di poesia cosmica. Perché? Perché possiamo leggere al verso 85 il pastore, le sue riflessioni. Dico fra me pensando, a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito serenne? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io che sono? Così meco ragiono. E della stanza smisurata e superba, e dell'innumerabile famiglia, poi di tanto adoperar di tanti moti, d'ogni celeste, ogni terrena cosa, girando senza posa per tornare sempre là, d'onde sono mosse. Ma soprattutto quando si fa al verso 88, l'accezione all'infinito, alla solitudine immensa, oppure quando il pastore si chiede a Dio, che sono? Questa è, se vogliamo, poesia cosmica, che mette in luce la piccolezza umana, e che poi si ritroverà, per esempio, anche in Pascoli, ma non solo. Sì, Pascoli, perché pensate all'atomo opaco del male, ecco, adesso che mi è venuta, cioè, dovete essere in grado di fare questi collegamenti in sede d'esame. E poi, se vogliamo, il campo semantico dell'infinito, che ci rimanda a quella bellissima poesia di Leopardi, che sicuramente analizzeremo le prossime volte. Quindi, se volessi, ah, faccio velocissimo, mamma mia, la prossima volta dovrò fare 45 minuti almeno. Sesta stanza, si parla del grege, quindi dalla condizione della luna si passa a quella, come dire, di un'entità decisamente inferiore. Gli animali, gli animali che sembrano sereni, perché? Perché non hanno consapevolezza, non si pongono domande. E poi, la settima, invece, in cui si arriva al postulato finale. La felicità per l'uomo non esiste, e la vita è esclusivamente sventura, tanto che la canzone termina con è funesto a chi nasce il di Natale, ancora una volta una dimostrazione del pessimismo cosmico. Solo una cosa, volevo dirvi, è molto interessante, perché essendo una canzone a versi liberi, o leopardiana proprio, leopardi innova, questo genere, comunque tutte le stanze terminano con la rima in ale. E vi faccio notare le parole rima, che sono sempre in punta di verso, cioè sempre alla fine. Immortale, mortale, quindi c'è un rapporto che si instaura tra queste parole, un rapporto di tipo antitetico, oppure cale, nel senso, l'una a te poco ti importa, oppure abbiamo ancora male, un'altra parola chiave del pessimismo leopardiano, oppure assale, questo termine riferito alla noia. E poi Natale, ancora una volta da collegarsi con male, con mortale, a tutte le parole appartenenti al campo semantico del pessimismo. Va bene, io direi che, con il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, super mega rapidamente, abbiamo concluso.